Sono favorevole all'energia nucleare, perché i combustibili fossili prima o poi finiranno. E se usassimo il sole, il vento, le onde del mare? Anche quelle finiranno. Hai ragione, ma le centrali... Tranquillo, sono sicure. Più sicure dei pannelli solari, delle paleoliche e dei galleggianti in mare? Ma senti, i nostri genitori sono vissuti di fianco ad una centrale nucleare e noi siamo normalissimi. Anche noi... Anche noi...